E' entrata nel vivo l'operazione restyling di Palazzo Bonaguro al via dopo gli atti vandalici dello scorso mese di novembre che hanno deturpato la facciata dello storico edificio. L'attesa è stata lunga, per molti troppo lunga, mesi e mesi in cui turisti e residenti hanno dovuto girare la testa altrove, passando in Angarano per non riaprire una ferita che fa male alla città e alla sua immagine. Andava sicuramente rimesso a posto, è un palazzo storico, monumentale, iscritto alle ville venete. Non è semplice lavorare su strutture che comunque sono datate nel tempo, bisogna non rovinarle ulteriormente, la restauratrice sta facendo un lavoro certosino e nel giro di tre o quattro settimane avremo finalmente il palazzo ripulito. La maggiore difficoltà è legata al fatto che sono superfici diversificate, marmorini, lapideo e anche elementi, le linee, perché comunque dobbiamo fare anche gli infissi, quindi dobbiamo usare già i diversificati, lavoriamo con selettività. Si è pensato anche a cosa fare poi dopo con Palazzo Bonanguro, riqualificarlo in che modo? Palazzo Bonanguro è sicuramente un palazzo che va riqualificato, c'è una cifra già stanziata nel piano triennale delle opere, perché è un palazzo che è forse il più importante che abbiamo in destra Brenta e per riqualificare la zona ha bisogno anche lui di essere al centro dell'attenzione. Ha delle problematiche statiche, ha problematiche esterne di facciata, ha problematiche impiantistiche soprattutto per essere utilizzato come un museo. Viene però da chiedersi a questo punto, vista l'importanza di Palazzo Bonanguro, perché la sua riqualificazione non sia stata fatta o avviata durante questi cinque anni di amministrazione Pavan. Già, perché?